Blu, facciamo vedere quanto è impegnativo avere un leprero italiano? D'inverno soffrono tanto il freddo, quindi è meglio coprirli. Poi, sono cani che amano, ma soprattutto hanno il bisogno di correre. Ma sarebbe meglio lasciarli liberi solo se controllati, perché come vedono un uccello o qualche lepre iniziano a partire e non li vedi più. Per quanto riguarda la pulizia, sono cani che sono veramente tanto tanto puliti. Inoltre, sono molto affezionati al proprio padrone. L'unico difetto è che avendo delle zampe così piccole, il rischio di frattura è molto alto. Quindi diciamo che il veterinario è sempre presente.